Si è arrivato, lo dicevamo, quest'anno in casa Biancazzurra. Com'è questa famiglia, questo gruppo? È un gruppo coeso, un gruppo unito, questo lo si percepisce nello spogliatoio e anche in campo, anche nei 90 minuti, durante i 90 minuti. Sono arrivato, ecco, sono uno dei più esperti del gruppo a causa della carta d'identità, però è un gruppo che mi ha accolto subito alla grande, quindi inserirmi è stato veramente semplice, anche perché diversi ragazzi ci avevo giocato, comunque ci conoscevamo per esserci affrontati da avversari. Sei uno dei portieri di questa formazione allenata da Pilon, com'è il rapporto con i tuoi compagni di reparto? Un rapporto ottimo di confronto, c'è Fiorillo che è una certezza per la categoria e Lancastrati che è un ragazzo di grande prospettiva. Mancava un po' di esperienza, quindi sono stato chiamato. Adesso ci sono due gare interne consecutive per il Pescara, tra l'altro ravvicinate. È il momento, magari l'occasione, non so, anche se in Serie B è meglio incrociare le dita sempre, per fare il classico salto di qualità? Addiate il salto di qualità, credo che siamo alle prime giornate, quindi un vero e proprio salto di qualità non puoi farlo. Alla fine comunque in palio ci sarebbero sempre solo i tre punti. Ci sono due opportunità ravvicinate in casa per continuare a coltivare le nostre certezze, per lavorare su quegli aspetti sui quali il mister sta insistendo di più. Chiaramente le partite aiutano a prendere sempre più consapevolezza nei propri mezzi e chiaramente portare a casa i punti aumenta l'autostima, che è un qualcosa che poi ti aiuterà sicuramente a lungo andare.